La prospettiva in economia e gestione aziendale indica la proiezione del contesto dello scenario futuro in cui la tua azienda intende operare. Nella prospettiva sono inclusi aspetti come coerenza, valori personali e aziendali, aspirazioni, obiettivi di lungo periodo. Antone Goh, severo critico gastronomico che forse è conosciuto dopo aver visto Ratatouille, il noto film di animazione della Disney, si rivolge ad un intimorito cameriere dicendogli, dopo aver letto tante sviolinate sul vostro cuoco, lo sai cosa vorrei tanto? Un po' di prospettiva. La prospettiva è merce rara della società moderna, dove la corsa verso obiettivi economici e produttivi di breve periodo ti induce ad un'esistenza rutinaria, ti impoverisce la tua visione di lungo periodo a vantaggio di un qui e ora spesso privo di significato, incapace di definire il tuo futuro. Certo, eguagliare la storia italiana di Marinelli, la fabbrica di campane con quasi mille anni di attività alle spalle, non è facile. E nemmeno quella di Kongo Gumi, pensa, l'azienda edile giapponese con una vita di 1.400 anni. Che dire, prospettiva da vendere. Domandati, la prospettiva fa parte della tua mentalità di imprenditore? La visione di lungo periodo ti riguarda, a prescindere dalla dimensione della tua attività. L'agenzia immobiliare di provincia o grande marco di settore non importa, avere prospettiva può garantire stabilità e crescita al tuo business. Il mercato è ricco di sviolinate sul brand, su quella narrazione che può farti guadagnare consenso nel breve periodo. Tuttavia, definire i valori che ti guidano, sviluppare la capacità di scegliere le persone giuste con le quali condividerli, tracciare obiettivi di lungo periodo, dare concretezza alle aspirazioni, agire con coerenza tra il dire e il fare, daranno un senso compiuto allo spazio che occupi nel mercato. Le persone cercano nuovi riferimenti, esempi del fare, che migliorano la risposta ai loro bisogni a partire dalle piccole cose. Il mercato è sensibile verso quei brand, quelle personalità su cui sanno di poter contare, perché giudicate solide, affidabili, costanti. Nell'immobiliare dichiarare aiuto alle persone a vendere o comprare casa non è mai bastato. Le crisi di fiducia sono ricorrenti ed il detto che il tempo è garantuomo rivela proprio che esistere e resistere negli anni è sinonimo di garanzia. Ecco perché lavorare la tua prospettiva non è solo un'opzione, ma una priorità che darà un senso diverso al qui e ora, uno slancio verso un futuro che a volte potrà anche sembrarti incerto, ma che riserverà sempre spazio al valore.